Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso con il quale la regione Abruzzo contestava l'autorizzazione a procedere da parte del governo alla realizzazione della centrale di compressione gas di Sulmona, proposta dalla società SNAM Rete Gas. Secondo il coordinamento NOAB del gas, un raggruppamento nato per riunire in un'unica vertenza le lotte contro la realizzazione di opere fossili sul territorio, che ora si aspetta un immediato appello da parte della regione al Consiglio di Stato, la sentenza del Tar sarebbe contraddittoria. Inoltre si è ancora in attesa del giudizio dell'organo di giustizia amministrativa e risposta al ricorso portato avanti dai comuni. Dunque resta in vigore la delibera del Consiglio dei Ministri, che a dicembre 2017, a governo Gentiloni già sciolto, poco prima delle nuove elezioni politiche del 4 marzo 2018, aveva imposto il superamento del dissenso alla realizzazione dell'opera emerso in sede di conferenza di servizi. La regione Abruzzo contestava il mancato assoggettamento della valutazione ambientale strategica, ma per il Tar la procedura non era necessaria, in quanto la valutazione spettava l'autorità competente. Inoltre, secondo il Tar, l'impianto è destinato ad essere sottoposto ad una futura autorizzazione integrata ambientale, senza la quale non potrà essere messo in esercizio. La sentenza riguarda il ricorso della regione Abruzzo. Noi stiamo attendendo l'esito del nostro ricorso. Noi riteniamo che la battaglia debba essere proseguita in tutte le forme e in tutti i modi. Quindi aspettiamo che la regione porti avanti, presso il Consiglio di Stato, la battaglia non interrompendo un percorso che è stato avviato da diverso tempo e ha coinvolto tutte le istituzioni del territorio e regionale. Un no corale che deve essere ribadito e portato avanti in tutte le sedi. Noi, insieme ai comitati, alle associazioni ambientaliste e anche alle istituzioni locali, organizzeremo entro fine mese un incontro pubblico qui a Sulmona, proprio per fare il punto della situazione e rilanciare una battaglia che noi combatteremo fino in fondo. Come comitati cittadini che da 11 anni stiamo seguendo questa battaglia e coordinamento NOAB del gas, noi saremo di stimolo e da pungolo anche per la regione affinché faccia il ricorso al Consiglio di Stato, perché gli elementi per aggredire questa sentenza del TAR ci sono tutti. Per noi la battaglia continua, con più determinazione e fermezza di prima.